Torino batte CSKA Mosca 2 a 1. È la finale che decide la prima edizione del torneo Montani, torneo Montani che si decide ai tempi supplementari. Partita povera di emozioni, ma quelle emozioni che si vivono al Pedroli domenica 2 giugno sono intense. Al nono minuto papera del portiere del CSKA Mosca. L'Enoci ne approfitta a metà e colpisce un clamoroso palo. Come ogni finale che si rispetti, anche Torino CSKA Mosca vive su episodi dubbi. Al trentesimo, ultimo minuto del primo tempo, Florio trattiene Makarov dopo uno splendido 1-2 con Kaidash e cade in area. Il direttore di gara non concede il penalty, anzi espelle l'allenatore del CSKA Mosca e ammonisce Kaidash. È un'ammunizione pesante perché dopo due minuti dell'inizio del secondo tempo Kaidash va giù ancora in area. Non protesta, viene ammonito per simulazione e deve raggiungere gli spogliatoi anzitempo. Pur in inferiorità numerica il CSKA Mosca passa in vantaggio al dodicesimo. Cross di Belikov, stacco perentorio di Olobovale e CSKA Mosca in vantaggio. L'1-0 dura appena due minuti. Al quattordicesimo, diagonale vincente di Procopio e il Torino pareggia. Al ventiduesimo, respinta a mani aperte di Samorokov sul diagonale ancora di Procopio. Al venticinquesimo del secondo tempo, Jantet ci prova da vicino. Ancora il portiere russo che respinge. Il portiere russo Samorokov diventa protagonista in negativo al secondo minuto del primo tempo supplementare. Da una sua papera nasce il gol che decide il torneo Montani a favore del Torino. Lo realizza Di Federico e i Granata portano a casa l'ambito trofeo.